Siamo arrivati alla variante Ascari, ancora Sam a guidare in seconda posizione Kevin, lì al terzo posto, mancheranno due chili quando si avrà... Sante Young è riuscito a... La seconda posizione in questa gara Per proseguire c'è la Porsche 997 di Oltre Poi la Ferrari 458 di Federico, Leo Siamo sul turbone veloce Ci portiamo alla staccata della seconda posizione La seconda posizione in questa gara